L'assicurazione sui tempi di inizio del lavoro nei cantieri autostradali Siracusa-Gela sono arrivate da parte dell'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Marco Falcone che è arrivato questa mattina a Modica. Sei persone sono state arrestate e sottoposte agli arresti domiciliari per aver scatenato una violentarista nella notte tra il 6 e il 7 gennaio in una discoteca del Ragusano, l'operazione dei carabinieri. Si è insediato questa mattina il nuovo questore di Catania Alberto Francini, napoletano di nascita. Francini vanta un curriculum di tutto rispetto e intanto a vittoria arriva il nuovo dirigente del commissariato Alessandro Sciacca. L'epifania, tutte le feste, porta via ieri giornata dell'epifania, il 6 gennaio giornata dell'epifania e il ponte di ieri hanno segnato tante celebrazioni nelle piazze Iblee. Buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Lo avete ascoltato dai titoli. Questa mattina è arrivato a Modica l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone per constatare da vicino lo stato dell'arte per quanto riguarda i cantieri autostradali, rassicurazioni sui tempi, sulla ripartenza, definiamola così, dei cantieri. È stato fatto appunto il gioco di parole non solo in riferimento ai tempi ma anche ai tempi per la consegna dell'opera infrastrutturale. Falcone è arrivato con esponenti del mondo politico, grande assente di oggi il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, che ha fatto sapere di non essere stato invitato. Era atteso soprattutto da parte delle aziende subalpattatrici l'incontro con l'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Marco Falcone qui sui cantieri nel tratto modicano della Rosolini Modica, l'autostrada Siracusa Gela soprattutto ferma nei tratti 6-7-8 in questi tre lotti. Ebbene oggi l'assessore effettivamente ha presentato un piano di rientro sia per garantire il lavoro alle ditte che sono ferme da luglio sia anche per poter riprendere i lavori autostradali almeno fino al tratto modicano. Ci sono delle garanzie però in realtà serve una vera e propria programmazione e prima di avere le risposte sono proprio quelle aziende che hanno smesso di lavorare perché non ricevono lo stipendio da almeno 18 mesi. Noi riconosciamo su 222 milioni di riserve, ne riconosciamo 22, 10 milioni li pagheremo quasi immediatamente, diciamo anzi immediatamente. Stiamo facendo però, volendo far sottoscrivere un addendum, un atto aggiuntivo all'azienda che riconosca 8 milioni di euro alle ditte subappaltatrici e 2 milioni di euro li lasciamo alla stessa impresa. I 12 milioni di euro successivi saranno dati invece in 12 salle che sono i salle residui per il completamento dell'opera, un milione ogni salle. In più, noi abbiamo l'esigenza di fare un tratto funzionale entro il 28 febbraio 2019 e avremmo immaginato che un'opera di circa 70 milioni di euro come lotto funzionale potrebbe essere la Rosolini Ispica che vale circa 70 milioni di euro. Le ditte sono ferme da luglio, lei è già in grado di poterci dire quando potranno iniziare a lavorare? Guardi, io direi anche fra dieci giorni, dipende anche da loro, anche ora ci vediamo, vediamo loro cosa ci dicono. Io chiederò al più presto, non abbiamo tempo da perdere. Su questa vicenda il presidente Musumeci mi ha chiesto un'azione determinata, io ho recepito immediatamente, stiamo facendo tutto ciò che c'è da fare perché questa opera vada al completamento. C'è la fusione Cassanas, ci sarà? Potrebbe essere una soluzione anche per garantire la continuità a lungo termine e quindi una programmazione? Io credo che prima dobbiamo definire tutte quelle che sono le emergenze. Appianato e verificati anche i bilanci, i consuntivi e i preventivi del CAS, decideremo e raccogliendo anche la proposta concretamente, parlandone anche col Parlamento e allora solo alla fine potremo capire nel giro di due mesi se questo processo di fusione per la creazione del secondo gestore nazionale delle autostrade, 800 km circa di autostrade, possa avere una sua fisionomia e possa raggiungere anche l'obiettivo per poter essere realizzato. Se ci sono le condizioni ok, se non ci sono le condizioni potremo anche immaginare di riqualificare, di ristrutturare lo stesso CAS. Voltiamo pagina alla cronaca adesso in primo piano con la rissa che si è registrata la notte tra il 6 e il 7 gennaio in una nota a discoteca di Ragusa. Sono scattati diversi arresti portati a termine dai carabinieri. Già da Giacquinta. L'apprezzamento nei confronti di una ragazza sembra al momento l'ipotesi più accreditata. Quale fattore scatenante dell'accesa discussione, poi generata rapidamente in una violenta rissa, che ha scosso nella notte tra il 6 e il 7 gennaio una discoteca del ragusano. Grazie al pronto e immediato intervento dei carabinieri della compagnia di Ragusa, la rissa è stata sedata e sono stati individuati i responsabili. I protagonisti, tra i quali alcuni con precedenti di polizia, si sono affrontati con tirapugne e coltelli e in molti hanno riportato ferite al volto e alla testa. Ad avere la peggio un giovane che ha subito la perforazione di un polmone con un'arma da taglio, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Se di loro sono stati arrestati e sottoposti ai domiciliari, si tratta di due gelesi e quattro albanesi, tutti di età compresa tra i 19 e i 28 anni. I responsabili, dunque, al termine delle formalità di rito, sono stati arrestati e posti ai domiciliari in attesa di giudizio, su disposizione del PM della procura di Ragusa e il dottor Sodani. Nei giorni delle festività natelizie si sono intensificate le attività di controllo e prevenzione mirate a garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica nei principali centri di attrazione della città ibrea, tra i quali locali, pub e bar. Altro obiettivo, reprimere eventuali abusi derivanti da sostanze alcoliche e stupefacenti. Nuovo sbarco, questa volta anche con dei cadaveri. Ce ne parla Sara Donzuso da Catania. Sono cominciate intorno alle 8.30 di questa mattina le operazioni di sbarco dei migranti giunti a Catania, nel porto Ettenneo, a bordo della nave 18 della Guardia Costiera. Questi uomini e queste donne, insieme a loro anche circa 10 bambini, sono stati salvati dal naufragio avvenuto a largo delle coste libiche. Secondo due delle tre ONG che ancora operano davanti alle coste della Libia, la tedesca Sea-Watch e la spagnola Proactiva, i morti di questo primo naufragio dell'anno, sarebbero molti di più, 25 almeno, e i migranti sarebbero rimasti in mare molte ore prima di essere rintracciati e salvati. Questa mattina, infatti, al porto di Catania sono giunti anche 8 cadaveri. L'origine dei migranti è per lo più della costa d'Avorio, anche se per adesso parlano poco, come ci sottolinea un esponente alla Croce Rossa italiana. Oggi, nei loro visi, diciamo, c'è molta stanchezza, fisicamente, diciamo, tutto sommato le condizioni sanitarie sono abbastanza buone, però sono veramente molto provati, oltre che fisicamente, anche psicologicamente. Fortunatamente i bambini che abbiamo incontrato fino ad ora stanno tutti bene. Oggi è uno sbarco silenzioso. Qualcuno ha fatto cenno al naufragio? Qualcuno ci ha detto che aveva perso un familiare, ma c'è molto silenzio, molto riservati. Al momento nessuno ci ha raccontato molto, però abbiamo capito che qualcosa è successo. Ancora la cronaca. In primo piano, un ciclista è stato travolto ieri da un'auto intorno alle 10.30 sulla rotatoria all'ingresso di Marina di Ragusa. L'uomo, 47 anni, di Ragusa, ha riportato un politrauma, perdonatemi, con una frattura al polso, fratture vertebrali e un trauma facciale. Il 47enne è ricoverato nell'unità operativa complessa di chirurgia plastica dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Dopo gli opportuni accertamenti diagnostici al trauma center dell'azienda Cannizzaro, dove è stato trasferito in elambulanza, è stato sottoposto a intervento chirurgico. Il paziente non è in pericolo di vita e in chirurgia plastica proseguirà le cure per il trattamento della ferita al volto. È il secondo ciclista travolto da un'auto nel giro di una settimana. Il 31 dicembre si è trattato, come ricorderete, di un mortale. A perdere la vita, in quella circostanza, il vittoriese Arturo Felisati. Hanno sfondato la porta di un tabacchino con una macchina Fiat Panda rubata e dopo aver rubato alcune sigarette e i ladri hanno fatto perdere le proprie tracce. È successo ieri sera ad Acate intorno alle 23 ai danni di un tabacchi situato in via 20 Settembre in zona via Emanuele Filiberto. Indagini in corso da parte della polizia per identificare e intercettare gli autori del furto. Cambiamo argomento, parliamo degli insediamenti e della sostituzione di vertici in questura. Andiamo a Catania dove si è insediato il nuovo questore. Ce ne parla Sara Donzuso. Si chiama Alberto Francini ed è il neo questore di Catania. Oggi ha assunto il comando della questura Ettennea e ha voluto incontrare i giornalisti ai quali ha rivolto subito un ringraziamento per il lavoro che svolgono, soprattutto per il contatto che riescono a creare con la cittadinanza. Dunque il nuovo questore ha sottolineato quella che è l'importanza della comunicazione per il lavoro che gli uomini e le donne e la polizia svolgono quotidianamente. Parlando del suo curriculum, il questore Francini è stato per anni impegnato nell'emergenza ai rifiuti, in particolare in cinque comuni del Napoletano e poi si è occupato per vent'anni di sicurezza negli stadi, tant'è che ha voluto ricordare subito come stamattina uno dei suoi primi atti sia stata la deposizione di una corona al monumento ai caduti, ma anche un omaggio all'ispettore Raciti morto il 2 febbraio del 2007. Io ho avuto una grande esperienza sull'ordine pubblico negli Stati e sull'ordine pubblico nelle grandi emergenze rifiuti a Napoli, ne ho vissuti cinque, devo dire che sono state anche peggio dell'ordine pubblico negli Stati, perché là ci troviamo veramente di fronte a situazioni in cui anche la criminalità organizzata era direttamente interessata e quindi agiva sulla piazza, agiva sul territorio per crearci grossi problemi e addirittura abbiamo avuto situazioni di vera e propria guerriglia urbana per le quali le forze di polizia sono anche attrezzate con una certa difficoltà, perché noi siamo abituati sicuramente a fare l'ordine pubblico, però fronteggiare bombole di gas incendiate o situazioni di grave pericolo, quasi sempre nottetempo per far sì che funzionassero le discariche, insomma è stata una bella lotta, meglio l'ordine pubblico negli Stati che con tutti i problemi, con tutte le difficoltà e anche con tutte le tragedie, però perlomeno si era nell'ambito di uno spettacolo. A Ragusa invece oggi è stato il giorno proficuo per tracciare il bilancio dell'attività svolta nel 2017 e l'occasione perfetta per presentare il nuovo dirigente del commissariato di polizia di Vittoria che si chiama Alessandro Sciacca, ce ne parla Carmela Minardo. Nonostante il calo rilevante del numero di sbarchi in conseguenza delle politiche del governo nazionale, la prevenzione, il contrasto dell'immigrazione clandestina e la lotta alle bande organizzate che lucrano sulla pelle di tanti disperati sono state nel 2017 uno degli aspetti prevalenti dell'attività di polizia di Stato in provincia di Ragusa. 57 il numero complessivo di sbarchi, tre in meno rispetto all'anno precedente, mentre il numero complessivo dei migranti approdati e trattati è stato di oltre 12.000 contro i 19.000 del 2016. 1.141 i respingimenti alla frontiera, 205 i provvedimenti di espulsione di cittadini stranieri, tre emessi dal ministro dell'interno per motivi di sicurezza nazionale e 202 dal prefetto di Ragusa per permanenza irregolare. Nel bilancio di un anno intenso spicca anche la repressione dei reati predatori. Sono stati 354 gli arresti operati dalla squadra mobile. Per quanto riguarda l'area sicurezza illustrata l'attività della Digos impegnata sul fronte delle misure antiterrorismo, gestione delle vertenze sindacali ed elezioni politiche. Lo scorso anno sono state emesse oltre 2.180 ordinanze per servizio di ordine pubblico. Importante è anche l'attività espletata dai tre commissariati Modica, Vittoria e Comiso. In particolare quest'ultimo ha dovuto gestire la sicurezza aeroportuale con il notevole flusso di passeggeri quasi 27.000 e di circa 4.000 voli tra nazionali ed internazionali. Una particolare attenzione oltre alle attività fatte su Comiso, su Vittoria e su Modica che sono state veramente molto molto importanti. Una particolare attenzione la destinerei proprio al commissariato di Comiso che svolge un lavoro scuro ma sicuramente molto molto importante in ragione del fatto che ormai è decollato l'aeroporto Piola Torre e quindi ci sono tanti voli e noi siamo molto impegnati sotto il profilo della frontiera e della sicurezza aeroportuale. L'importanza di questo momento di comunicazione è appunto questo, per far capire che esistono tutta una serie di attività svolte in maniera diuturna, certosina e attenta da parte degli uomini della Polizia di Stato. Presente all'incontro con i giornalisti il nuovo dirigente del commissariato di Vittoria Alessandro Sciacca che va a sostituire dopo sei anni di reggenza Rosario Amaru. Vado a ricoprire questo nuovo incarico con l'entusiasmo di chi ha passione per il proprio mestiere, per il proprio lavoro e quindi con quella passione che caratterizza e chiama il proprio lavoro proseguirò quello che è il lavoro del commissariato. Adesso parliamo di un caso che è scoppiato prevalentemente sui social, si infiamma infatti la polemica modica in riferimento all'installazione di presunti dossi nelle arterie principali delle città. Allora intanto partiamo da un'informazione importante che è quella che non si tratta di dossi ma si tratta di attraversamenti pedonali rialzati, attraversamenti che erano stati già segnalati attraverso la segnaletica verticale. Ancora devono essere completati i lavori per tutta la giornata di oggi, le aziende che si stanno occupando dell'installazione stanno provvedendo infatti a colorare di un colore tipo giallo o rosso l'attraversamento pedonale per essere visibile anche in riferimento alla segnaletica orizzontale ma la segnaletica verticale c'era, a dirlo è il comandante della polizia municipale Rosario Cannizzaro a seguito delle accese polemiche che denunciavano la non segnalazione di questi attraversamenti realzati pedonali. Evidente, sottolinea la polizia municipale, che chi ha avuto problemi però ha violato comunque il codice della strada perché correva a fare chiarezza. Viviana Sammito. Il noto social network Facebook è stato riempito di post di denuncia contro gli attraversamenti pedonali rialzati voluti dall'amministrazione comunale di Modica ma per nulla riconoscibili a causa del colore tutto nero. Solo stamattina la ditta è corsa di ripare ultimando l'intervento con i ben visibili gialli e bianchi. Poco fa ha scritto il 6 gennaio alle 18.23 l'ex consigliere comunale Nino Gioratana, davanti ai miei occhi una ragazzina si è salvata per miracolo. Un altro ragazzo che lavora in un pub a poco distante dagli attraversamenti rialzati ha scritto che stava rischiando grosso e ne sono conseguiti altri commenti dello stesso tenore. Il comandante della polizia locale di Modica, Saro Cannizzaro, ha precisato che non sono dossier artificiali e che erano già stati abbondantemente segnalati con i cartelli verticali. Per il comune l'installazione ha migliorato sensibilmente la sicurezza dei pedoni confermandosi uno strumento validissimo contro l'alta velocità delle auto. Sono 5 quelli realizzati vicino agli istituti scolastici dove è più alto il rischio soprattutto negli orari di entrate e uscita degli alunni. Gli attraversamenti pedonali rialzati si trovano in via Re Manzoni in via Loreto, Corso Umberto, zona San Francesco alla Cava, in Corso Santa Teresa in via Nazionale. Se noi rispettiamo quello che è il codice della strada e quello che dice la segnaletica circoliamo a 30, quindi anche se non erano visibili gli attraversamenti pedonali e noi camminiamo a 30 km orari la macchina non subirà alcun danno. Allora noi dobbiamo stabilire qua, mi consente di dire questo qua. Noi vogliamo la sicurezza oppure vogliamo continuare a correre. Perché sulla mia scrivania, come dicevo, scrivovo ieri su Facebook ad un consigliere comunale. C'è un fascicolo di richieste di queste strutture da parte della gente. La frase univoca è corrono come se fossero a Monza, riferiti alla pista di Formula 1. Dobbiamo aspettare il morto. Anche in via Roma a Comiso, in prossimità degli istituti scolastici, sono stati realizzati i dossi artificiali e i passaggi pedonali rialzati qualche mese fa per garantire maggiori sicurezza. È la soluzione individuata dal comune casmeneo per regolamentare il flusso veicolare pedonale nel tratto tra le vie Libertà e Anna Romano Assenza. Restiamo a Modica dove sono stati completati i lavori della rotatoria di via San Giuliano intersezione De Gasperi e di Impastato. L'opera è frutto della collaborazione tra pubblico e privato, un punto strategico per la circolazione di quella zona del quartiere Sorda che adesso verrà regolamentata da questa importante opera infrastrutturale. Sabato pomeriggio il sopralluogo per costatare la fine dei lavori da parte del sindaco di Modica, Ignazio Abate, degli assessori Belluardo, Linguanti e Lorefice, dei consiglieri Gianratana e Mignoto. Poi ancora presente il comandante della polizia locale, l'avete visto poc'anzi, Rosario Cannizzaro e del titolare della ditta che ha realizzato l'opera. Restiamo sempre a Modica dove ci sono ancora le istruzioni per l'uso, per la raccolta differenziata, a fornirle non solo la dirigente del settore che si occupa di questa importante realtà a Modica, ma anche la ditta che ha in appalto al comune di Modica la gestione dei rifiuti e il sindaco. Lo hanno fatto nella chiesa di Sant'Antonio a Modica Alta. Guardate. E' stata la buona occasione per spiegare ai cittadini come funziona la raccolta differenziata, quella proposta dall'amministrazione comunale di Modica venerdì sera nella chiesa di Sant'Antonio, nella parte alta della città. Una serata che ha avuto lo scopo non solo di sensibilizzare alla raccolta ma anche e soprattutto di spiegare diversi tipi di materiali e come distinguerli ed associarli al giusto contenitore di raccolta. I cittadini hanno avuto modo di ritirare il kit comprensivo di chiavi e l'ecodizionario che tra poco verrà distribuito a tutta la cittadinanza. Durante l'evento sono stati mostrati i carrellati dei diversi colori che a breve compariranno in tutta Modica Alta, dimostrando alle persone cosa bisogna buttare e soprattutto dove buttare il rifiuto. All'incontro hanno preso parte il sindaco di Modica, Ignazio Abate, la responsabile del settore ecologia Enza di Rosa e il responsabile IgM della sede di Modica Antonio Di Stefano. I tantissimi residenti che vi hanno preso parte hanno rivolto ai relatori domande pertinenti sulla raccolta differenziata. È una sfida di civiltà che abbiamo voluto portare nella nostra città e la scommessa che la nostra città come essere è la prima che è entrata in figura la legge 9 con l'appatto della legge 9 sul riciclo deve essere credo la prima anche a raggiungere i risultati che tutti noi speriamo. Non vogliamo trovarci nella stessa situazione in cui ci siamo trovati tutte le città siciliane nell'estate scorsa dove non avevamo dove portare i rifiuti perché le discariche ormai sono satire. Quindi in questa direzione noi stiamo andando, la scommessa è proprio questa e sono sicuro che i nostri cittadini stanno rispondendo bene. Voglio ringraziare veramente le scuole che hanno messo grande sensibilità da parte degli insegnanti e da parte anche delle famiglie e degli alunni e di tutte le chiese dell'istituzione ecclesiastica a Modicana. In questo caso Don Cino Tisito che ha organizzato questa bella manifestazione. Gli incontri a Modicalta continueranno anche in altre zone. Domenica 14 gennaio alle 10.30 è il momento del prossimo appuntamento alla chiesa di San Massimiliano Colbe, a seguire anche a Santa Teresa e presso l'oratorio dei Salesiani. Parliamo adesso della sigla di un importante protocollo tra commercio e i commercialisti e gli esperti contabili per la gestione della situazione di sovraindebitamento sia di imprese che di privati. Una firma che è avvenuta, che si è registrata, scusate, oggi. Fornire una consulenza tecnica per la gestione delle situazioni di sovraindebitamento, così come previsto dalla legge del 2012, la cosiddetta legge antisuicidi di imprese e privati per la gestione e la risoluzione delle situazioni di crisi. E' quanto previsto dal protocollo di intesa, siglato stamani all'ASCOM di Ragusa, tra la Confcommercio e l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Misure anticrisi quindi per le imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dell'artigianato che potranno fare ricorso agli strumenti previsti dalla normativa. Le imprese e i privati potranno presentare un piano di risanamento del debito ad un esperto che lo sottoporrà al presidente dell'OCC, organismo di composizione della crisi, e successivamente sarà sottoposto al vaglio del Tribunale. E' un accordo che l'ordine dei commercialisti, facendosi parte attiva, ha costituito a proprio interno nel 2017 l'organismo di composizione della crisi, riconosciuto dal Ministero, competente per cui siamo in grado di mettere a disposizione dell'intera platea di imprese, di piccole e medie imprese, delle imprese agricole e anche dei privati cittadini che sono indebitati, circa 150 professionisti che possono gestire la crisi. Si è reso necessario fare questo organismo proprio per cercare di aiutare le piccole imprese e le famiglie a gestire questo momento di difficoltà e quindi cercare di presentare un piano di ristrutturazione del debito in modo da poterlo, con le possibilità che ha ciascuna famiglia o ciascuna impresa, di poterlo onorare. Noi andiamo a raccogliere tutta una serie di dati dai nostri associati che manifestano una situazione di crisi e dopodiché andremo a registrare dei documenti, quindi si farà un inventario di questa documentazione e poi sarà passata direttamente all'organismo che vaglierà questa procedura. Pubblicità tra poco. Bentrovati alla seconda parte del nostro telegiornale, Salvatore Barresi è stato riconfermato come componente del Consorzio per la ricerca sulla filiera latterocasilaria di Ragusa, ovvero il Corfilac, in rappresentanza del Comune di Ragusa. L'organismo in scadenza il 30 dicembre 2017 è stato prorogato per almeno un ulteriore anno, così come abbiamo evidenziato nelle precedenti edizioni del nostro telegiornale. Diversi gli appuntamenti nel giorno dell'Epifania che tutte le feste ha portato via. L'Epifania si sa porta tutte le feste via, ma arriva con un sogno positivo, quello della solidarietà. La città di Modica e le imprese e i privati hanno dimostrato di essere vicini alle famiglie bisognose. Attraverso la polizia locale di Modica questi doni saranno portati a chi ne ha più bisogno in accordo con l'assessorato dei servizi sociali del Comune. Il comandante della polizia locale, Saro Canizzaro, ha spiegato che gli agenti consegneranno i doni che sono stati lasciati nella postazione allestita in Piazza Monumento. Sono beni di prima necessità, ma anche capi di abbigliamento, perché purtroppo la povertà aumenta di anno in anno. Spesso le stesse isole dove vengono conferite vestiti e scarpe vengono subito svuotate perché prese d'assalto. Un altro sostegno economico è stato fornito dall'amministratore di Palato San Domenico che hanno destinato una quota di indennità ai più poveri che, attraverso l'impiego della Genicard, potranno risparmiare sui generi alimentari. La Befana è arrivata anche a Pozzallo il 6 gennaio dalle 10 alle 20, in Piazza delle Rimembranze, dove l'Associazione di Volontariato San Michele Arcangelo, con il patrocino del Comune di Pozzallo, ha organizzato la prima Befana del Sorriso, un evento che ha coinvolto diversi enti, tra cui l'Associazione dei Carabinieri, la Stele di Rosetta e i Vides. Una giornata animata da canti, balle, giochi, tombolate, degustazioni di dolci. Era presente anche Kit, l'autoparlante, dalle 16 in poi, spettacolo comico di giocoleria, sfilate, premiazione delle Befanine e la tombolata in piazza curata dall'Associazione Charlie Chaplin. Una giornata intera, quindi, per regalare a Bimio un sorriso e un grande gesto d'amore, perché, meno fortunato, il ricavato dell'evento sarà devoluto per i progetti rivolte ai bimbi autistici e alle suore salesiane di Pozzallo per l'acquisto di materiale didattico per le attività dell'oratorio. Il Lions Club Ragusa Host della Presidente Penuccia Lembo, nell'ambito del service della famiglia, ha organizzato la Befana della Gioia, ospitando i ragazzi dell'educatore del Sacro Cuore di Gesù, di Suor Maria Schienina. Si è voluto, dice la Presidente, donare un momento di festa dal sapore familiare a chi purtroppo non vive in famiglia, oltre ai ragazzi presenti da accompagnatori, tutori, soci e loro famiglie. E sono stati festeggiati i 60 anni del professore Domenico Pisana. Una serata emozionante ed intrisa di sentimento e spessore, quella che ha preso vita all'auditorio in Floridia di Piazza Matteotti a Modica venerdì sera, dedicata all'intellettuale modicano Domenico Pisana, in occasione del suo 60esimo compleanno. Una serata che ha visto alternarsi molti interventi dal mondo politico, artistico e giornalistico ebleo, uniti insieme per celebrare il 60esimo anniversario dalla nascita di chi ha scritto pagine e pagine di storia, di cultura e di amore per la bellezza eblea. Al centro della serata la presentazione del libro lui dedicato dal titolo Domenico Pisana scritti, interviste, epistole e poesie. Un libro che la professoressa Lucia Trombadore ha curato per l'occasione e che evidenzia tutto il suo itinerario poetico dal 1985 al 2016. La copertina riprende le opere dell'artista ragusano Franco Cilia. Tanti momenti che si sono susseguiti tra musica, videoclip e interventi dal tessuto culturale di Modica e del suo comprensorio nei confronti del presidente del caffè letterario Quasimodo di Modica. Abbiamo appunto celebrato sia il 60esimo del nostro presidente che appunto l'ultima sua creatura, un saggio che raccoglie in maniera antologica scritti, epistole, corrispondenze che si sono snodate chiaramente nei decenni precedenti. Quest'opera vuole essere una sorta di momentaneo, è sottolineo un momentaneo epilogo dell'impegno letterario nell'ambito della critica letteraria, nell'ambito della produzione poematica, ma soprattutto anche nell'impegno relativo alla dimensione politica di Domenico Pisana, perché Domenico Pisana appunto è un intellettuale impegnato da cittadino, polites nel senso pieno, non politico di bassa lega ascrivibile a questa ideologia oppure a quest'altra, ma uomo del suo tempo, uomo della sua città e soprattutto uomo del contesto a cui vuole sempre e in maniera irrimediabile appunto appartenere. Ecco perché questo saggio ha voluto in un certo senso sintetizzare alcuni decenni, gli ultimi appunto decenni, l'ultimo ventennio in particolare della sua produzione. Adesso un servizio del nostro ufficio commerciale. Stamattina presso l'Accademia Trizi Team di Via Dante Ragusa è iniziato ufficialmente l'anno accademico 2018 dei corsi che si tengono settimanalmente. All'evento erano presenti i corsisti del 2017, i quali hanno già fatto il primo anno e che proseguono nel secondo. Un considerevole numero di nuovi iscritti ai quali il responsabile Trizi Team, Giuseppe la cognata, ha presentato in modo dettagliato la prestigiosa realtà formativa e gli insegnanti che si freggia di avere Trizi Team di Ragusa. Abbiamo gli stimoli e anche il piacere di iniziare il nuovo anno, il nuovo anno che inizia ora oggi ufficialmente, finirà a dicembre e poi il prossimo anno di nuovo stesso l'Accademia durerà due anni, perciò quest'anno o in questo periodo sono inseriti nuove iscritte. Le sviluppiamo una formazione accademica, significa tanti ragazzi che si stanno avvicinando al settore, stanno entrando nel settore parrucchiere e giustamente come ormai è un'esigenza avere una formazione appropriata per poi andare a lavorare nelle sale. Trizi Team è un gruppo stilistico affermato a livello nazionale ed internazionale che si pone come unica realtà nel suo genere. Stanno arrivando delle colleghe di Atene, da Atene e dalla Grecia, dove faranno un corso di aggiornamento di base nella nostra Accademia. Presente nel panorama dell'air stylist e tra le pagine delle più importanti riviste del settore con le proprie collezioni trend donna, sposa e trend uomo, Trizi Team si muove su diversi fronti come franchising per i colleghi che trovano nell'affiliazione una risposta alla loro esigenza di aggiornamento dei loro negozi. Operiamo a livello nazionale e internazionale, consideriamo che imminente, fra due settimane faremo un corso ai colleghi vicino Siracusa, dimostreremo le nuove collezioni autunno-inverno 2017-18, faremo anche dimostrazione delle acconciature sposa 2018. E' tutto, grazie per averci scelto e buon proseguimento su Video Mediterraneo.